Ehi, attenzione! al pure comandante attenzione ahahah su mostreremo a questi cani fedeli a che appartiene a questa terra Vai, l'ultimo Liberiamo questi cacchi di prigionieri Oh mio dio, chiudi Vai, oh mio dio E dai, cavolo E' più bravo mia nonna, dai cazzo Oh mamma mia Ciao Grazie C'è anche la chiacqua Diamo una lezione a questi bastardi Presto Così Quello era l'ultimo Andiamo Perché ti comporti così? Ottimo lavoro Torna all'accampamento e riferisci della nostra vittoria Io resterò qui e sistemevo che sarai marcito lì dentro Per fortuna c'eri tu Qual è il piano? Non ce l'avremmo fatta senza di te Qual è il piano? Non, ma sì Core Master Forza Per fortuna Per fortuna Iscriviti al canale Ehi, come va? Ehi, come va? Andiamo. Cosa possiamo fa? Allora, libera Erich. Devo appunto che abbia perso il corno. Ma se andiamo a Erich. Andiamo. Oh, ho scoperto. Conosco tutte queste pozioni. Guarda che c'è. L'impero ci vuol... Ma ammettere... Non vogliamo rovinargli la rip... Dovrai fare attenzione. Gli uomini dello Jarl non saranno teneri, con chi verrà sorpreso a frugare negli alloggi privati del sovrintendente. Trova la prova. Posso sempre contare su di te, vero? Una notte mio figlio è scomparso. Dicevano che l'avevano preso Italo. Poco dopo mi ritrovai a seguire il vessillo di Ulfring. Trova le... Andiamo qua. Nella città nanica mi sembra. Maract. Maracta. Ciao, come cazzo si chiama. il riccio appartiene rilegati non dovevi venire e che io sta colato abbastanza muoio per l'agente state tutti indietro a guardia cittadina di Margar mi ridocchio il cielo non sto nascondendo un bel niente allora dobbiamo andare a vedere gli elogi del re e le chiave e le chiave picchia del cielo hai l'onore di parlare come se questa lorida città potesse dare i natali a un nobile mare quale sono io sono stato qui per curare gli interessi Talmor in questa regione di Skyrim la mia missione è quella di sradicare tutto ciò che resta del culto di Talos in questa città non puoi stare qui ti consiglio di andare sono fuori cazzo vuoi ciao grazie a tutti